Lo Sporting in C1, Presidente, alla fine la soddisfazione è stata tanta, anche la bellezza di questa nuova conquista. Sì, è stato veramente un giorno fantastico, è stato un giorno dove tutti ci siamo veramente compattati, uniti, eravamo esaltati per che cosa? Per lo sport, per il pallone, ci ha fatto andare nel pallone, veramente siamo stati felicemente abbracciati, sempre, ed è da una settimana che ancora non ci sembra vero. Allora, per il prossimo anno sono già pronti i programmi di potenziamento, si va avanti con la squadra, questa è confermata? Certo, certo, tutti i ragazzi sono confermati, prenderemo oltre due o tre ragazzi dai reparti per potenziarci un pochettino di più e poi vediamo, ora comunque faremo qualche festeggiamento anche dal punto di vista sportivo e questo festeggiamento sportivo in cui inviteremo delle squadre un pochettino più titolate, diciamo che sono già anziane di C1, qualcuna che è stata anche in Serie B e quindi faremo un torneo per la festa della Madonna il 17 e 18 di giugno che sarà il chiamato Sporting Futsal in onore della patrona di Alcamo. Come sarà questo torneo? Questo torneo sarà un quadrangolare, abbiamo pensato con il presidente di coinvolgere delle società che già militano nel campionato di C1, anche per mettere alla prova i ragazzi con il livello di categoria superiore che andremo ad affrontare. Sicuramente un aspetto che interessa a noi è fondamentalmente coinvolgere i giovani perché con il presidente abbiamo appunto il progetto di creare una forte squadra juniores e di coinvolgere tutti i paesi nimitrofi per fare degli stage appunto e accattivarci il favore dei ragazzi che vogliono provare le emozioni che regala questo bellissimo sport. Per l'anno prossimo che programmi ci sono a livello organizzativo? Adesso è una questione di impiantistica, anche di interventi, di sponsor, delle strutture pubbliche. Sì, impiantistica senza dubbio siamo messi bene perché il comune di Alcamo abbiamo un impianto a norma anzi è molto grande, ospitale, quindi va bene. Il comune speriamo che ci dà una mano anche dal punto di vista di un sostegno di essere un partner anche dal punto di vista economico.